Semplice, immediato e garantito dal soddisfatto e rimborsati. Abbonarsi al salvagente non è mai stato così conveniente e proprio per questo la nuova campagna abbonamenti lanciata dal nostro giornale, leader nei test di laboratorio contro le truffe ai consumatori, vuole puntare proprio sulla semplicità e sulla trasparenza. Quella che avete premiato in questi lunghi cinque anni insieme, grazie al quale avete potuto per esempio scegliere un pacco di pasta sicuri di non portare in tavola quella che aveva tracce di glifosato. Avete insieme a noi imparato a riconoscere alcuni ingredienti sgraditi, tanto diciamo nel cibo quanto ad esempio nei prodotti per l'infanzia, ad esempio i ftalati o altre sostanze che possono mettere a rischio la nostra salute e quella dei nostri figli. L'abbonamento contiene una serie di vantaggi esclusivi per i nostri abbonati. Innanzitutto ogni mese potrai ricevere a casa tua la copia cartacea del salvagente prima che il mensile stesso vada in edicola. La versione digitale del mensile sarà sempre consultabile così come i principali test ed inchieste saranno disponibili in formato audible. Per gli abbonati poi in regalo il libro Il piatto naturale, una mini enciclopedia con tutti i segreti e le caratteristiche nutrizionali dei principali prodotti alimentari. Per i nostri abbonati l'assistenza tecnica e commerciale è sempre a disposizione ma soprattutto se ti abboni prima dello scadere del timer per te ci sarà un regalo d'eccezione. Ma quanto costa abbonarsi al salvagente? Abbiamo due semplici tariffe. Il trimestrale che costa 14,50 euro e l'abbonamento invece annuale che costa appena 45 euro con un risparmio del 25%. Punto di forza della nuova campagna abbonamenti al salvagente è la garanzia soddisfatti o rimborsati. Significa che se ti abboni ora riceverai a casa la prima copia cartacea del salvagente e poi il secondo numero. A quel punto se i test e le inchieste non saranno di tuo gradimento o non avranno rispettato le tue aspettative basterà a comunicarci la richiesta di rimborso. Ti potrai tranquillamente tenere i numeri del salvagente, il libro, il piatto naturale e riceverai il rimborso di quanto pagato. Scegli il tuo abbonamento al salvagente, il tuo supporto contro le truffe consumatori.